Caro dottor Zaccheroni, a me il mare mi ispira, però. Carte, primiera, sette bello, una scopa, sette, quattro, undici, questo quattro. Eh, ma ci hai in bel culo, però, eh. Grazie per l'epoca, ma sentite le parole, dottor Zaccheroni. Le voglio soltanto ricordare il detto napoletano che la carta sape dove deve andare, eh. Sì, ma fammi le nalle. E vai, scupa. Fanta. E vai, un'altra scopetta. Della serie va dove ti porta il culo, mi scusi, dottor Zaccheroni. Allora io faccio quattro di mazzo, tre scopi, sette, quattro ciave e questo undici. Undici a due. Ma sta vincendo sempre a papi? Eh, sta vincendo sempre a papi. Eh, ma questo sta a giocare contro un fachino, sa. Che te pensi? Fanno fare i punti, va. Quanto è? Allora, mi ho fatto, te perdi sei di fila, a raddoppiare. Posso, mi devi da trentadue zucchi. Trentadue? Sì. Ma i coglioni. Guarda se ti portano un gelato, va. A me non mi va il gelato, papi. Te va, te va, fai. Ah, sì, papi. Dottor Zaccheroni, questo qui è l'assegno. E che c'è facile? Questo vale come il due coppe quando regna bastoni. No, questo lo metto in banca e... Quale banca? Me son formato. Stai in bianca rovinato? No, no, io sto aspettando un fido, ecco. Ma te l'unico fido che vuoi piare, carile municipale, ma essi buono. Allora, dottor Zaccheroni, io... Ma quale, dottore? Mi chiami Motello. Signor Motello? Senti, sei un po' stronzo. Grazie. Però mi piace, tiene tanto a te. Io voglio chiamare papi. Papi? Che faccio, un strappo?